Quanto conta essere connessi alla rete, specie per i piccoli comuni? E' questo il tema del servizio di apertura del nuovo numero di notizie che spiega obiettivi e opportunità del piano regionale per la banda ultralarga. Nel magazine della regione Piemonte si parla poi di formazione professionale, delle sfide digitali raccolte dagli artigiani, di chimica verde e di funghi. Uno sguardo al passato celebra la ricorrenza dei 600 anni del Ducato dei Savoia e sempre in ambito culturale si spazia fra le università della terza età e il mondo dei graffiti e della street art.